buongiorno ragazzi e bentornati su singhia il canale dei simsauri appassionati dei simulatori di guida a cui piace divertirsi e non fare il tempone allora oggi voglio parlarvi di come interagire con il vostro ingegnere di pista se siete appassionati di simulatori di guida conoscete questo krio kiev versione 4 v4 quindi siccome io sono sauro non vi dico dove scaricarlo vi scrivete su google krio kiev v4 download e non rompete troppo i coglioni scaricatevelo e installatevelo quando però lo installerete e farete avvia applicazione non vi dirà prova prova 123 prova ma di birra check radio check check radio check cioè sarà in inglese ecco perché io vi consiglio di scrivere krio kiev italiano download poi voi che fate vi scaricate l'ingegnere il pack dp italiano quindi molto semplice spero di non essere finito nessuna parte di solito vi manda qua su google ce ne sono mille di link lo scaricate scarica comunque via e lui in un attimo vi scarica un giga di roba sul vostro hard disk ok vi dice a me 18 minuti non l'ho preparato scaricato ma fondamentalmente vi creerà un file zip che voi scompatterete nella cartella download creerà una cartella nominata sound ecco cosa fare per scaricare l'applicazione per trasformare l'applicazione in italiano bisogna andare a cercare una cartella in particolare quindi si va su windows c utenti il vostro nome utente nel mio caso euro lo aprite app data local e poi cercate nell'elenco crew kiev vediamo in ordine alfabetica eccolo qua crew kiev v4 voi di tutta sta roba qua troverete solo una cartella sounds la rinominate sounds eng in modo tale che ve la salvate e non vi va a puttane prendete la nuova cartella scompattata quindi la cartella sound nuova e la mettete qua chiudete e riavviate crew kiev e crew kiev sarà magicamente per metà in italiano non sarà completamente italiano alcune voci saranno le voci dell'ingegnere saranno in italiano le voci dello spotter saranno in inglese ma questo non va neanche male ci sta tutto sommato bene avere un po di inglese qual è il nocciolo del video di oggi è poterci parlare quando voi avete creo kiev aperto vedete qualche avete modalità comando vocale modalità comando vocale la mettete su sempre attivo dopodiché avviate l'applicazione adesso la stoppo perché sennò se mi sente parlare questo si incasina allora nella cartella dove avete scompattato la cartella sound troverete questo specie ricogniti onconfig punto txt io ne ho fatte due becca è quella di copie sicurezza voi la aprite ecco questo elenco è tutto ciò che potete chiedere all'ingegnere di pista situazione gomme situazione cambio situazione aerodinamica guardate adesso ovviamente il gioco non è avviato situazione gomme stoppiamolo un secondo avviamo assetto corso ovviamente vale per qualsiasi gioco andata selezionare in questa casella avviamolo lasciamolo spento un secondo allora qual è il problema di questo bel giochino di poter parlare con l'ingegnere in pista che funziona bene solo se lo usate con delle cuffie con microfono perché se voi avete le casse il 5 più 1 e un microfono applicato all'orecchio lui si incasina sentirà i suoni alla stanza e non andrà troppo bene e questo ovviamente è un problema allora vediamo di far caricare questo poi intanto che lui carica cercherò di ricordarmi perché poi tutti questi comandi bisogna ricordarseli quindi si se selezionano quali sono quelli che vi interessano in quel momento e gli si utilizzano ok quindi io qua ho la mia applicazione la faccio partire e poi vado qua parto situazione gomme situazione freni qual è il mio vantaggio e beh non ho fatto ancora un giro situazione gomme temperatura gomme 151 145 posteriore sinistro 154 posteriore destro 149 gradi fahrenheit quanto manca alla fine della sessione ok allora usciamo ora non ho fatto un video molto complesso con quant'è il mio distacco quant'è il vantaggio eccetera eccetera però capite che devo fermare capite che se ci prendete la mano è figo potete metterlo a tacere potete chiedere la temperatura dell'asfalto temperatura dell'aria il problema è che vi servono le cuffie quindi tipo sapete che io sono un coglione mi piace giocare col casco questa cosa non la utilizzo però è figo per sentirsi sempre più on board bene sauri un'altra cazzata esposta a tutti quanti spero che a qualcuno possa tornare utile a qualcuno piacerà a qualcuno no fatevene una ragione e decidete se usarla o non usarla comunque sappiate che abbiamo anche un ingegnere di pista che ci ascolta grazie per essere stati con me e alla prossima ciao 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 ciao